E parliamo di alternanza scuola-lavoro, serve più attenzione alla sicurezza l'annuncio del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'indennizzo negato ai genitori del giovane che era morto durante uno stagio in un'azienda veneta. Sentiamo Danilo Sinibaldi. Cambiamento in vista per l'alternanza scuola-lavoro, l'intenzione di modificare le norme che coinvolgono studenti e aziende è stata annunciata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a seguito della vicenda che ha visto sfortunato protagonista Giuliano De Seta, il diciottenne morto lo scorso settembre mentre svolgeva uno stagio in un'azienda di 90 di piave. Per quel lutto i genitori non riceveranno nessun risarcimento. L'INAIL infatti ha negato l'indennizzo perché il giovane non era capofamiglia, così come prevedono le norme in vigore. Una decisione che ha indignato l'opinione pubblica e squarciato il velo delle mancate garanzie sulla sicurezza dei ragazzi. Spesso, secondo le denunce delle associazioni sindacali e studentesche, trattate alla stregua di dipendenti e non di apprendisti. Valditara ha annunciato già per la prossima settimana un tavolo con la ministra del lavoro Calderone, con l'obiettivo non di rimettere in discussione una modalità didattica ritenuta fondamentale, ma di correggerne l'impianto per garantire la sicurezza degli studenti, rafforzare le tutele sanitarie e assicurative, incentivare la formazione sia per i ragazzi sia per i tutor che li seguono nel percorso formativo. Contemporaneamente vanno previsti incentivi per aumentare la platea delle aziende disposte a ospitare gli studenti, imprese con alti requisiti in termini di sicurezza e condizioni lavorative. Introdotta nel 2015, l'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle superiori, renderla sicura è il minimo che uno Stato possa fare. Grazie.